Ma passiamo all'ultima concorrente, all'ultimo show di questa sera, di questa finale nazionale di Androginus 2019 con la quinta concorrente, il Kim. Nasce come ballerino performer circa un anno fa. Versatile, dà forte personalità, ama portare sul palco esibizioni significative cercando di dare un senso ad ogni cosa e curando ogni minimo dettaglio ritenendosi un perfezionista. Il Kim! 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 Il Kim!